Musica 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 Buona festa della donna che il consiglio regionale celebra con tante iniziative e che proprio in questa giornata dell'8 marzo porta ad assegnare 11 premi ad altrettante eccellenze toscane non solo, nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo per evitare le discriminazioni nel mondo delle professioni hanno lavorato le commissioni in questi giorni in particolare nella quarta territoria ambiente si è parlato ancora dell'alluvione del novembre scorso c'è stata l'audizione dell'assessore all'ambiente che ha risposto a molte domande sullo stato dei lavori, sulle opere realizzate e su quelle da fare sulle ragioni di quel disastro mentre tutto il centrodestra vuole una commissione d'inchiesta andrà in aula al dibattito generale anche il bilancio di arti l'agenzia regionale per l'impiego che la commissione sviluppo economico ha già votato favorevolmente a maggioranza in questi giorni la giunta ha annunciato la riforma sperimentale dei tirocini ci sono più contributi anche per le aziende ma solo se i tirocinanti vengono assunti il tema del lavoro resta centrale nel dibattito politico toscano prende corpo il progetto della società toscana strade che dovrebbe nascere a questo punto verso la fine dell'anno dovrà gestire innanzitutto la Firenze Pisa Livorno migliorarne la qualità lo scorrimento e la sicurezza riscuoterà il pedaggio per i mezzi pesanti ma il dibattito resta aperto a proposito di trasporti parliamo anche di quelli marittimi tornando indietro di qualche giorno all'ultima seduta dell'assemblea durante la quale sono stati approvati il documento di programmazione strategica di sistema del martirreno settentrionale e il bilancio era quello del 2021 però dell'autorità portuale regionale tante le iniziative che anche questa settimana hanno trovato spazio qui a Palazzo del Pegaso e non solo si è discusso di par condicio per esempio ancora senso ci chiediamo e si è fatto il tifo a distanza ma neppure tanto perché il presidente è nato a Roma per la Val di Chiana nella corsa difficile ma gloriosa capitale italiana della cultura per il 2026 8 marzo festa della donna di tutte le donne il consiglio regionale riprendendo quella che ormai è diventata una bella tradizione ne premia 11 chi sono? Albiera Antinori imprenditrice Leonora Gallerini per il centro aiuto donna Lilith delle pubbliche assistenze riunite di Empoli Ilenia Garofalo Miscoraggio 23 Veronica Conca Medico Sandy Iannella allenatrice di calcio Maria Dell'Urd Chinones Montano campionessa di atletica Master 45 Caterina Antropova pallavolista Sara Barzotti vulcanologa Elda Ferrucci Agostini imprenditrice Daniela Vullo ricercatrice Cecilia Rabassi Tessieri Mette Cioccolatie le vedremo e le ascolteremo tutte nella nostra prossima puntata e anche nei telegiornali di questi giorni intanto spazio ad un accordo significativo siglato tra la Commissione Pari Opportunità e il Comitato Interordinistico Insieme per le Professioni Qual è l'obiettivo? Lavorare insieme per costruire una cultura di parità diffusa su tutto il territorio grazie alle loro professionalità possiamo costruire iniziative e progetti che siano diffusi appunto su tutto il territorio della Toscana e diano la possibilità di creare e di prevenire qualsiasi forma di violenza ma anche di costruire un mondo in cui le donne possano essere realizzate soprattutto sul lavoro credo che sia molto importante che le professioni si siano messe insieme e abbiano compreso questa necessità è sicuramente un grande passo avanti Ma a cos'è? A cosa serve questo gruppo Insieme per le Professioni? È un gruppo interordinistico e interprofessionale che ha l'obiettivo proprio di fare rete e di mettere insieme i sapere e le competenze che ciascuna professione ha a servizio di percorsi e progettazione in ambito di pari opportunità Sono obiettivi che il Consiglio regionale condivide a pieno e sostiene così come il progetto Sentinelle Antiviolenza che la Commissione realizzerà con il Comitato Insieme per le Professioni con Auser e con i centri antiviolenza Oggi qui noi vogliamo dire che tutti insieme possiamo cambiare le politiche pubbliche per sostenere la parità di genere nei luoghi di lavoro Dicevo prima in conferenza stampa che ogni qualvolta una ragazza che arriva ad un colloquio gli viene chiesto se ha figli o pensa di avere figli e questo cambia la valutazione finché accadrà che soltanto un caso di questo genere sarà accadrà ognuno di noi deve sentirsi responsabile quando dico di cambiare le politiche pubbliche voglio dire prima di tutto cambiare l'approccio culturale che hanno tante e tanti uomini e tante donne che partecipano ancora alla scelta e alla selezione e all'inserimento di donne nel mondo del lavoro il consiglio regionale nell'ultima seduta ha messo la parola a fine a lungo dibattito sul bilancio di previsione dell'autorità portuale regionale che però attenzione si riferisce al 2021 e questo porta nuove polemiche durante il confronto alla fine sono stati 21 i sì DPD e Italia Viva 13 no Fratelli d'Italia Lega e Movimento 5 Stelle l'utile di esercizio è pari a 640.000 euro il 20% va al fondo di riserva legale l'80% alla regione questa cifra servirà come contributo per il dragaggio straordinario del porto di Viareggio dell'argomento parla anche il presidente della giunta che prima ricorda il ruolo e l'importanza a suo dire dell'autorità regionale anche per i porti di Marina di Campo Giglio e Porto Santo Stefano poi replica duramente a chi critica l'utilità di questo ente con riferimento particolare a Viareggio ritengo che chi dice che non c'è bisogno dell'autorità portuale un po' si dimentichi delle difficoltà dei problemi anche delle situazioni di mala gestione che si creavano quando non vi era l'autorità portuale segnatamente allora nel comune di Viareggio l'autorità portuale ha oggi anche la gestione sta andando avanti il progetto per il sabbiodotto si tratta complessivamente di 7 milioni di euro che abbiamo messo come regione toscana per poter dare una struttura permanente che tenga costantemente libero l'ingresso e l'uscita per le attività dei pescatori per le attività del cantiere per le attività del turismo da diporto e sotto questo aspetto quindi è una buona notizia l'approvazione del bilancio e il senso anche di favore che ho potuto riscontrare il Consiglio regionale anche verso poi l'attività operativa che segnatamente riguarda i quattro porti ma su cui il dibattito poi si concentra nel momento in cui parliamo di Viareggio i consiglieri di centrodestra usano toni diversi favorevole al ruolo dell'autorità si dice Baldini della Lega che mette in evidenza però le grandi divergenze che ci sono nelle scelte qualificanti tra regione e comune bene questo aspetto di conferma di sostegno all'autorità portuale da parte del presidente Ciani al quale però ho fatto presente che a Viareggio c'è un sindaco e un'amministrazione che addirittura promuovono e fanno approvare una mozione che chiede la cancellazione dell'autorità portuale e c'è una situazione quello il presidente Ciani non l'ha detto ma gliel'ho ricordato dove abbiamo ancora una carenza del ruolo di segretario dell'autorità portuale che è il motivo messo per scritto dallo stesso commissario attuale per cui i ritardi di questa autorità portuale di difficoltà sicuramente concorre più duro è il commento di Capecchi Fratelli d'Italia che comincia il suo intervento ritornando sul ritardo inammissibile a suo giudizio con cui viene discusso questo bilancio sì abbiamo ricordato in aula il presidente Ciani richiamando anche i comunicati stampa del 2016 del 2020 che il sabbiodotto avrebbe già dovuto essere realizzato in realtà siamo in ritardo di molto di molto e i soldi che sono stati necessari per intervenire dopo le mareggiate con il dragaggio straordinario ricordiamo i pescherecci si sono arenati con gravi rischi per le persone soprattutto con il blocco dell'attività economica sono stati pagati addirittura imputando una parte dell'utile del 2021 come se quei soldi fossero rimasti congelati per tre anni è un modo di gestire la finanza pubblica che non ci soddisfa e soprattutto ne risentiranno gli investimenti sugli altri porti perché i soldi mancanti per il dragaggio straordinario oltre all'utile del 2021 sono stati presi da altri investimenti dovevano essere realizzati nel corso del 2024 pur riconoscendo il paradosso di un bilancio approvato così in ritardo la maggioranza difende le scelte fatte e promette un rinnovato impegno per Viareggio e per gli altri porti regionali è di tutta evidenza che ci deve essere una collaborazione frente la regione la solità portuale e il comune di Viareggio stiamo lavorando in questo senso perché il porto di Viareggio ricordo è importantissimo non solo da un punto di vista turistico i cantieri navali ma c'è un'attività come quella della pesca che vale il 30% dell'attività ittica toscana non la possiamo trascurare il porto deve essere messo in sicurezza anche se ricordo lo ricordava ieri anche l'opposizione questi sono problemi che ci portiamo dietro da oltre 100 anni io credo che in questi tre anni si sia fatto molto c'è da fare ovviamente ancora di più ma la strada credo sia quella giusta l'altra grande questione portuale affrontata nell'ultima seduta riguarda invece gli scale di Livorno e Piombino sempre a maggioranza ma non ci sono stati voti contrari solo 10 astenzioni è stato approvato il documento di programmazione strategica di sistema DPSS del Martirreno settentrionale il documento non è un atto di pianificazione urbanistica e non è sottoposto a valutazione ambientale strategica individua gli obiettivi di sviluppo dei porti gli ambiti portuali la ripartizione degli ambiti portuali collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio è molto diverso dal piano regolatore portuale che definisce obiettivi previsioni contenuti strategie di ciascun porto tra cui le grandi infrastrutture la funzione di tutte le aree di ogni singolo scalo il DPSS approvato adesso è comunque finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa tra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti favorevole come dicevamo tutta la maggioranza se astengono Lega e Fratelli d'Italia la dimostrazione della qualità anche della proposta dell'analisi che l'amministrazione regionale mette in campo anche nel rapporto nel confronto con il Ministero delle Infrastrutture e questa diciamo speriamo sia anche una occasione per far sì che il governo Ministero delle Infrastrutture possa davvero passare dalle parole ai fatti faccio riferimento ad esempio ai soldi che sono stati tolti alle connessioni ferroviarie ma anche a tutta un'altra serie di provvedimenti dove si riscontra una serie di impegni a parole del governo e delle forze che lo sostengono e che si scontra invece con le stanze e le necessità dei territori che attraverso anche questa elaborazione dimostrano una grande precisione e soprattutto di avere le idee molto chiare è un piano strategico che deve fare l'autorità portuale del Tirreno settentrionale per i maggiori porti in modo particolare riguarda alcuni porti dell'Elba ma soprattutto Livorno e Piombino sia per le aree contigue alle aree portuali sia per i canali viari e infrastrutturali principali cioè ferroviari nei confronti da e verso il porto rispetto all'interno della regione è quindi un atto strategico che presenta una conoscenza abbastanza dettagliata del territorio ma che non è immediatamente precettivo cioè non stabilisce l'utilizzo dei suoli ma che dovrà poi trovare attuazione attraverso i piani portuali e attraverso l'attività pianificatoria dei comuni un passo avanti comunque per portare la Toscana nel terzo millennio anche dal punto di vista dei collegamenti da e verso il mare il presidente della giunta e l'assessore ai trasporti hanno fatto un sopralluogo sulla Firenze Pisa Livorno nei pressi dell'innesto dell'autostrada è stata un'altra occasione per parlare del futuro di questa arteria così importante e così transitata ogni giorno sulla quale anche in quest'ultima settimana ci sono stati numerosi incidenti e gravi disagi Gianni ha ripreso il filo del discorso per la nascita di Toscana Strada e la società in house totalmente pubblica della regione che presto dovrebbe gestirla incassando tra l'altro i soldi del pedaggio previsto per i mezzi pesanti e migliorando le condizioni della strada ma il dibattito è tutt'altro che facile e naturalmente passerà prima dal Consiglio regionale noi tutti gli atti lo statuto l'atto convenzionale l'abbiamo presentato in Consiglio da settembre scorso quando il Consiglio approva ci vogliono magari quel anno di tempo perché possa entrare effettivamente in funzione altro tema centrale non in dibattito è certo quello del lavoro alla questione delle acceie di Piombino il Consiglio ha dedicato sempre molto tempo e attenzione convocando anche una seduta qui del resto è uno dei poli produttivi più importanti e significativi della regione ci sono novità importanti in questi giorni dopo la firma degli accordi prima con Metinvestanieli e poi con GSV ed è venuto a spiegarli proprio a Piombino lo stesso Ministro Urso giovedì una vicenda questa che tutti i consiglieri seguono con attenzione la seconda commissione intanto ha dato il via libera al bilancio preventivo 2024 di Arti l'Agenzia regionale per l'impiego con proiezione triennale fino al 2026 interessanti alcuni numeri che ha fornito la direttrice Simonetta Cannoni conta nel complesso 973 dipendenti i centri per l'impiego sono rimasti 53 sono stati aperti 20 sportelli territoriali nelle zone periferiche in programma l'apertura di altri 10 l'assessore all'ambiente alla protezione civile ha parlato ancora dell'alluvione del novembre scorso nell'audizione in quarta commissione è stato un evento eccezionale ha detto ha allagato 18.000 aree ha colpito più di 10.000 imprese e 29.000 alloggi sono stati impiegati 1300 mezzi e 2000 persone al giorno per l'intervento successivo al disastro i danni stimati ammontano a 2,7 miliardi un miliardo per il settore pubblico uno per il settore produttivo e 600 milioni circa per il privato dai gruppi del centro-destra in questi giorni è stata formalizzata la richiesta già avanzata di istituire una commissione di inchiesta dicono i capi gruppo unitariamente vogliamo sapere cosa è stato fatto per il rischio idrogeologico in Toscana in sintesi poi la prima commissione si è occupata del servizio postale sempre più a rischio nelle aree periferiche indispensabile però ha detto l'assessore Cioffo nella terza commissione sanità si è ascoltato il direttore di ESTA nella quinta cultura e istruzione si è fatto il punto sugli stati generali in particolare si è approfondita la normativa nuova sulle imprese culturali e creative la commissione per le aree interne ha ascoltato dal direttore di IRPET il rapporto commissionato sulle potenzialità e sulle criticità di queste aree che approfondiremo presto e infine la commissione di controllo ha esaminato nuovamente la questione della scelta del direttore di sviluppo toscana la toscana aspetta il verdetto dal ministero perché tra le dieci finaliste per diventare capitale italiano della cultura del 2026 c'è anche la valdichiana senese con il progetto valdichiana senese seme d'italia al ministero della cultura c'è stata pochi giorni fa l'audizione finale il nostro punto di forza è quello di proporre un modello quello dell'ecosistema culturale identificando proprio nella valdichiana senese una forma in cui ha preso vita un ecosistema culturale fatto da un lato di elementi materiali come il suo straordinario patrimonio artistico architettonico paesaggistico ma anche elementi immateriali che sono l'intelligenza creativa la competenza artigianale il sapere scientifico ecco questi elementi stanno in un equilibrio dinamico che produce di fatto una condizione di benessere per la comunità che abita la valdichiana e noi questo vogliamo proporlo come un modello replicabile in altre aree interne chiaramente non ci sfuggono quelli che sono i punti critici invece e uno tra i tanti anzi forse il più significativo è quello dello spopolamento che di fatto sta interessando molte delle aree interne di quelle che vengono definite aree interne nel nostro paese ecco noi crediamo che attraverso la cultura si possa trovare una via per contrastare lo spopolamento e far tornare questi luoghi ad essere luoghi desiderabili non soltanto per coloro che lo vogliono visitare come turisti che naturalmente sono sempre ben accolti ma quelli che vogliono fare il proprio progetto di vita appunto in valdichiana è la prima volta che una unione dei comuni come in questo caso raggiunge la finale e per sostenere la candidatura con forza dopo che il consiglio si era già espresso all'unanimità per l'appoggio al progetto è andato a Roma lo stesso presidente Mazzeo un progetto che parte dal territorio un progetto che tiene conto di questa grande scoperta che è avvenuta a San Casciano dei Bagni una scoperta unica al mondo ma è anche un racconto di storie e tradizioni differenti un seme un seme per costruire una proposta culturale differente in grado di attirare turisti da tutto il mondo una proposta innovativa che sono certo colpirà la commissione perché c'è l'idea di una Toscana bella che si sa aprire al mondo partendo dalla sua storia dai suoi valori e dalle sue radici parliamo infine di comunicazione politica che facciamo anche con questa trasmissione tra poche settimane scattano i vincoli della Parcondicio in vista delle elezioni europee e amministrative di giugno ma la legge ormai è da cambiare dice il presidente del consiglio regionale non si tiene conto dell'utilizzo dei social media cioè la comunicazione classica quella che voi fate ogni giorno si ferma nel momento in cui inizia la fase di Parcondicio lo stesso non avviene per l'utilizzo dei mezzi moderni di comunicazione ecco io credo che il Parlamento su questo debba agire vada modificata la norma vada modificata in funzione del tempo che viviamo c'è un'informazione che è importante quella che fa il mondo giornalistico che serve anche a superare a lavorare contro le fake news se noi lasciamo che sia soltanto la rete si rischia che in quel tempo sia un tempo in cui le fake news spopolano e si cambia anche l'orientamento elettorale di tante cittadine e ce ne sono tanti che decidono negli ultimi giorni di campagna elettorale qualche aggiustamento in realtà c'è stato nel tempo prima riconoscendo la specificità dell'emittenza locale poi provando a mettere qualche regola anche per i social e la rete anche in una prospettiva più ampia diciamo in una dimensione europea una legge che ormai è datata è che molti avevano quasi il desiderio di mettere da parte di accantonare o comunque ridimensionare invece in questa prospettiva più generale del mondo adiovesivo non dimentichiamo che il nostro presidente la sorella è il coordinatore dei servizi digitali nonché presidente appunto di tutti i regolatori europei per quanto riguarda appunto questi contenuti noi abbiamo da offrire insieme al Corecom tantissimo alle istituzioni e per essere intendo non solo quelle pubbliche ma per me istituzione cioè ciò che governa poi i territori sono anche i giornalisti e l'ordine che esso in cui essi appunto sono rappresentati l'occasione per parlare di tutto questo è arrivata da un corso di formazione che il Corecom ha realizzato in collaborazione con l'ordine dei giornalisti a Firenze e lo ripete in questi giorni anche a Siena Grosseto e Livorno Sì, avevamo avuto varie sollecitazioni dagli operatori ma anche dai soggetti istituzionali a organizzare incontri formativi e informativi su un tema così importante che quando si avvicinano le scadenze elettorali diciamo sale la temperatura e l'attenzione su questo tema per cui ci è sembrato utile fare questa iniziativa insieme all'ordine dei giornalisti della Toscana che ringraziamo e Acecom che è qui presente con noi questa mattina con la dottoressa Polcaro proprio per dare informazioni strumenti e linee guida per affrontare in modo sereno come storicamente è avvenuto in Toscana Soddisfatto della collaborazione su questo tema così importante nei periodi che precedono le elezioni il presidente regionale dell'ordine dei giornalisti Sentiamo parlare di parcondicio altri termini che sono o almeno che dovrebbero essere familiari ma io dico sempre che non c'è la necessità comunque di rinfrescare un po' le nozioni di base anche se poi dopo ci addentriamo in norme e regole che magari nel corso del tempo dovrebbero essere rinfrescate loro stesse considerato che dobbiamo fare conti anche con l'avvento dei social che sono qualche cosa di deflagrante per la nostra vita privata e la vita pubblica quindi questa è anche un'occasione non solo per fare tra virgolette addestramento ma anche di confronto perché in situazioni di questo genere quando ci sono relatori di altissimo livello è anche importante avere un confronto per chiarire alcuni aspetti che magari restano più oscuri e questo è un corso che va nella traccia dei corsi che abbiamo sempre organizzato come Ordine giornalista e come Fondazione dei giornalisti della Toscana cioè corsi realmente utili che siano davvero formativi e che possano offrire ai colleghi sempre più qualcosa di importante che possa aiutare nel loro percorso professionale nel salutarvi ricordando che ogni giorno vi proponiamo notizie di eventi del Consiglio regionale nei nostri TG vi mostriamo alcune immagini della mostra Mira Maudus la poetica del colore dedicata all'artista francese di origine serba Mira Maudus negli spazi del centro espo di Palazzo del Pegaso resterà aperta fino al 16 marzo fino al 21 marzo sarà possibile invece visitare un'altra mostra tu nell'universo con le opere di Emilio Vedova ospitata questa mostra nei nuovi spazi del Consiglio regionale di Palazzo Bastoggi in via Cavour 18 sempre a Firenze attentamente restaurati noi con Regionando ci rivediamo venerdì 15 marzo sempre alle 21.10 che Grazie a tutti.